Musica Passiamo adesso all'architetto Maria Berrini che è amministratore unico dell'Agenzia della Mobilità Ambiente e Territorio di Milano e che quindi ci porterà credo anche una visione di quello che è la problematica dei sistemi di asporto nell'ambito di un'area più vasta che la città metropolitana. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io ovviamente utilizzo il caso di Milano perché è il caso che conosco meglio e su cui possiamo anche presentare buone pratiche. ma cerco di utilizzarlo nella logica anche di riflessione un po' più generale che voi state facendo in questa occasione quindi sottolineando eventualmente anche aspetti di metodo o elementi di prospettiva che possono valere anche per altre aree urbane. Guardando alla pianificazione del TPL ovviamente io inserisco il trasporto pubblico locale come giustamente si è detto anche in apertura penso all'intervento di Colorni nel sistema più complessivo del governo della mobilità. oggi il TPL deve diventare, lo avete detto, l'asse portante della mobilità urbana ma è comunque una parte di un tutto. quindi il TPL si comincia a confrontarsi soprattutto nelle realtà urbane con altre modalità di movimento dalla mobilità attiva, pedonale e ciclabile, i servizi innovativi, il car sharing, l'utilizzo dei taxi come parte del trasporto pubblico ma in una direzione per esempio i taxi collettivi, i mezzi a chiamata e quant'altro. quindi pensiamo al trasporto pubblico come trasporto collettivo, trasporto di massa, asse portante della mobilità urbana in senso sostenibile ma comunque come qualcosa che deve relazionarsi con queste altre modalità. io però e in questo senso il piano urbano della mobilità sostenibile di Milano si è mosso guardando all'intero range delle possibilità di movimento nell'area urbana ma cerco certamente di stare invece nel solco che abbiamo definito con questo convegno e quindi faccio un focus sul trasporto pubblico. Milano è un caso, possiamo dire, certamente di successo, è un buon caso dal punto di vista dell'offerta di trasporto pubblico se paragonato con altre realtà italiane la qualità, l'intensità, la coerenza dell'offerta rispetto alla domanda di mobilità nell'area urbana di Milano è importante, poi molto si può fare per migliorarla e poi ne dirò ma certamente stiamo parlando di un sistema che offre agli utenti una molteplicità di servizi in termini di estensione della rete, di diversificazione dei servizi, della metropolitana, i tram, i bus e di distribuzione sul territorio. Noi con il piano urbano della mobilità sostenibile abbiamo ovviamente ragionato non tanto a partire dall'offerta ma analizzando la domanda e qui arriviamo all'ultima slide del professor Balducci, dell'assessore Balducci che giustamente rimanda alla, mi spiace non aver inserito qui la slide ma ve lo dico a voce rimanda al tema vero, alla sfida vera della mobilità milanese noi oggi abbiamo e di conseguenza questo sistema degli obiettivi è stato declinato su un'analisi attenta della mobilità milanese noi oggi abbiamo una ripartizione modale sostanzialmente equilibrata anche se migliorabile per i movimenti di scambio in città abbiamo quasi il 56-57% di movimenti in città sul trasporto pubblico mentre la situazione si ribalta al contrario per quanto riguarda gli spostamenti tra Milano e l'esterno e quando parlo di esterno parlo di quell'esterno vicino cioè i 20-30 km quindi quell'area urbana che invece potrebbe sicuramente accedere a Milano alla piattaforma di cui si diceva con i sistemi del trasporto collettivo di massa e che invece oggi accede a Milano prevalentemente su mezzo privato con veicoli alimentati, con combustibili che hanno le esternalità ambientali che ben conosciamo di conseguenza il piano urbano della mobilità milanese pur sapendo di muoversi in un sistema di governance o almeno quando abbiamo cominciato a fare il piano ancora la città metropolitana era al di là da venire quindi noi dovevamo fare un piano per il Comune di Milano che guardasse alle competenze e ai poteri del Comune di Milano il piano però ha voluto giustamente anche nell'interesse del Comune di Milano guardare alla domanda di mobilità di scala più vasta e quindi il sistema di obiettivi che li trovate è un sistema di obiettivi che mette chiaramente l'attenzione sulla necessità di dare risposta con il trasporto pubblico oltre che con altre modalità a quello squilibrio di cui vi ho appena detto Questa slide oltre a questo focus mette in evidenza un altro elemento che a noi piace del piano che abbiamo costruito cioè la capacità di ragionare in termini ampi, multiobiettivo tenendo insieme obiettivi di natura strettamente trasportistica pur declinati in senso innovativo con obiettivi di carattere sociale, ambientale ed economico e questa tavola diciamo in modo sistematico rappresenta questo quadro non è un fatto solo metodologico o formale questo sistema degli obiettivi è stato il sistema con cui noi abbiamo costruito il piano e abbiamo valutato gli scenari di piano e questo è la seconda diciamo valore o sollecitazione che noi diamo quando si costruisce un piano e credo che sia ancora un percorso difficile nel nostro paese per quanto consolidato altrove è importante costruire un piano dotandosi di sistemi di valutazione e di metodi di costruzione delle alternative e degli scenari di piano che appunto sottopongano le scelte a attente valutazione, costi benefici e ambientali questo è quello che abbiamo fatto peraltro con il validissimo contributo anche di un pezzo di questo Politecnico penso al professor Beria e ai suoi collaboratori e questo ci ha permesso di arrivare alla definizione finale del sistema delle alternative avendo scremato via via le soluzioni che mettevamo a sistema dal punto di vista della costi benefici e dell'analisi ambientale il piano oggi è al punto che vedete nella barra rossa in basso alla slide e quindi deve avere l'approvazione finale da parte del Consiglio Comunale dentro al piano ci sono diverse strategie io faccio di nuovo come ho detto focus sul trasporto pubblico proprio per i motivi che ho detto prima l'attenzione alla dimensione metropolitana della mobilità è l'argomento principale per cui abbiamo sviluppato questo asse strategico Milano città metropolitana e quindi strategie per lo sviluppo del trasporto pubblico di area vasta le tre caselle viola poi ci ritorno con le slide successive sono i tre assi portanti quindi potenziamento dei servizi ferroviari sul nodo di Milano e poi mi spiego potenziamento dei servizi di TPL di offerta a servizio della mobilità extraurbana e integrazione tariffaria cosa intendo per potenziamento dei servizi ferroviari sul nodo di Milano giustamente si è citato il passante come un pezzo del sistema dell'offerta di TPL a Milano riscoperto recentemente e nel PUMS si dice in modo forte e chiaro che quella infrastruttura deve diventare, deve essere riconosciuta deve essere gestita, offerta e integrata come un pezzo dell'offerta di TPL su Milano ma in più noi abbiamo un'altra opportunità utilizzare il sistema ferroviario esistente, il sistema ferroviario regionale come parte dell'offerta di TPL nel territorio di Milano realizzando, non interferendo, non creando nuove infrastrutture ma semplicemente integrando quella rete con nuove fermate con nuove stazioni fermate più che stazioni ovviamente in un bilancio di compatibilità con il servizio ferroviario esistente ma questo secondo noi è una strategia assolutamente importante e abbiamo quindi individuato con una logica anche di gerarchizzazione le fermate che riteniamo importanti realizzare su quella rete l'altro elemento di sviluppo è il potenziamento dei servizi extraurbani in modo molto selettivo, noi veniamo da una generazione di pianificazione della mobilità un po' faraonica diciamo in cui si prevedevano nuove infrastrutture, estensioni di lunghissima distanza eccetera abbiamo fatto un lavoro di selezione mirata ad andare a intercettare la domanda che effettivamente c'è quindi in una logica di costi e benefici seppur allargata alla considerazione delle esternalità ambientali e abbiamo quindi individuato, e questa mappa lo rappresenta ma non voglio ovviamente entrare nel dettaglio abbiamo individuato le priorità quali servizi metropolitani di metropolitana estendere in quali ambiti preferire all'estensione della metropolitana un servizio di bus rapid transit dove intervenire con il prolungamento di una linea di forza del tram e quant'altro l'altro elemento è quello dell'integrazione tariffaria su cui faccio solo un accenno è ovvio che con la costituzione delle agenzie di Baccino questo tema passa giustamente di scala non è il Comune di Milano a poter decidere ma con il piano noi lasciamo in eredità un messaggio l'integrazione tariffaria è una strategia importante e forte tanto quanto realizzare una nuova infrastruttura forse di più si può e si deve ripensare l'integrazione tariffaria nella logica che vedete rappresentata in questa slide l'altra linea di azione sul TPL guarda più all'ambito urbano in senso stretto quindi alla rete esistente del trasporto pubblico come abbiamo detto è forte, solida e di qualità ma che può essere certamente oggetto ancora di miglioramento quindi parliamo di alcuni completamenti in ambito urbano delle reti metropolitane esistenti ma parliamo soprattutto di interventi di riqualificazione pensiamo alle vecchie linee che hanno bisogno di interventi di riqualificazione una per tutte l'M2, risalita della falda problematiche gestionali e quant'altro pensiamo all'estensione e al potenziamento della rete di forza di superficie e su questo faccio poi un affondo più particolare perché crediamo che questo sia la strategia del piano e sullo sfondo abbiamo anche valutato la possibilità di nuove linee di metropolitana che cosa sulle nuove infrastrutture passo oltre l'ho detto nella premessa prolungamenti, estensioni ancora in ambito urbano la strategia che riteniamo più interessante a Milano sul trasporto pubblico è sicuramente quella che riguarda il potenziamento della rete di forza di superficie noi abbiamo individuato un sistema di linee di forza che abbiamo chiamato linee T e di corridoi di attraversamento da parte delle linee di trasporto pubblico su cui stiamo attivando un investimento forte e importante in termini di progettazione e di innovazione asservimento semaforico, protezione strutturale le fermate, l'accessibilità delle fermate ma finalizzato a rendere più attrattivo questa rete e di conseguenza ottenere i risultati che poi vediamo nella slide successiva se riusciamo ad arrivarci i risultati dell'attuazione di questo piano che ripeto tiene dentro anche altri interventi che riguardano il governo della domanda di mobilità sulla sosta, la congestion charge, la low emission zone che riguardano la promozione della mobilità attiva ciclabile e pedonale la limitazione della velocità negli ambiti urbani e quant'altro però l'insieme di questi obiettivi di queste strategie produce dei risultati nei prossimi dieci anni se attuati quindi non è un target auspicato è un target stimato calcolato e l'insieme di queste strategie produrrà quindi anche sul trasporto pubblico locale dei cambiamenti importanti lo shift sulla ripartizione modale è importante riusciamo a riconquistare la mobilità di scambio al trasporto pubblico riusciamo a rafforzare ulteriormente la mobilità sul trasporto pubblico nell'ambito urbano riusciamo a offrire una maggiore qualità del trasporto pubblico a un numero più importante di cittadini in città riusciamo a ridurre lo spostamento in città e la velocità commerciale del TPL che sono ovviamente le precondizioni per rendere questo servizio attrattivo chiudo con uno sguardo importante alla pianificazione di bacino la legge regionale istituendo i bacini inserisce Milano in un bacino più ampio con Monza, Pavia e Lodi e con la costituzione dell'agenzia di bacino cosa che abbiamo fatto recentemente e di conseguenza incardina sull'agenzia di bacino e su quella scala di programmazione la programmazione di bacino nel programma di bacino ci dovranno essere tutte le cose che vedete nella slide e questo ovviamente ci offre un'opportunità che fino a ieri non avevamo in termini di sistematizzazione di rafforzamento della capacità di pianificazione dell'intermodalità di definizione dei livelli di servizio penso anche a tutta la discussione che abbiamo avuto prima perché la costituzione dei bacini e dell'agenzia di bacino è la precondizione per poi arrivare a gare con quel riferimento rispetto alla gestione dei servizi di trasporto pubblico con questo ho davvero chiuso e vi ringrazio per l'occasione grazie ringraziamo l'archietto Berlini è veramente impressionante la quantità di cose che sono state fatte e sono in cantiere in questa città grazie a tutti grazie a tutti